ciao a tutti siete venuti sul nostro canale di notizie non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale bonolis a bruciapelo fai l'amore con pier silvio toffan in replica il conduttore romano ha messo in evidente imbarazzo la padrona di casa di verissimo facendole una domanda intima paolo bonolis è apparso su verissimo e ha parlato liberamente di vari argomenti ad un certo punto ha messo in imbarazzo silvia toffanin chiedendole se faccia ancora l'amore con il compagno pier silvio berlusconi lo scambio di battute è avvenuto dopo che la padrona di casa del rotocalco di canale 5 ha cercato di indagare a fondo sulla fine del matrimonio del conduttore e sonia bruganelli punto all'inizio dell'intervista si è parlato della nuova stagione di ciao darwin che inizierà il prossimo 24 novembre sulla rete ammiraglia mediaset oltre a bonolis il protagonista del format è naturalmente luca laurenti sono un tossico dipendente di laurenti ci siamo separati solo un anno quando io lavoravo in rai e lui stava a buona domenica ha spiegato ridendo il presentatore romano spazio poi al matrimonio concluso toffanin ha introdotto il tema mostrando una clip di sonia bruganelli con l'imprenditrice che ha spiegato che nonostante la fine della relazione continua a trascorrere molto tempo con l'ex marito e a nutrire nei suoi confronti grande stima e profondo affetto la versione la detta sonia ha dichiarato bonolis ci sono cose che cambiano e cose che permangono su quelle che cambiano ci si adatta abbiamo trovato un nuovo equilibrio sì finché uno dei due non cade io sto sempre con lei non mi muovo da là a questo punto la conduttrice di verissimo ha detto di sperare in un ritorno di fiamma io tifo per voi bonolis ha dato una delle sue risposte fulminanti ma guarda che non succede niente sono state prese in considerazione delle cose e basta si dice che l'anima è un conto e il corpo un altro però pure il corpo ha detto bonolis toffanina provato a farsi fornire una spiegazione meno nebulosa prorompendo in un in che senso a questo punto il conduttore ha messo in evidente imbarazzo l'intervistatrice tu fai ancora l'amore con tuo marito silvia si è nascosta il viso tra le mani per poi scandire un sì con un riso imbarazzato e vedi c'è pure il corpo no ha incalzato bonolis come chiudiamo questo argomento la domanda della conduttrice cambiandolo l'importante è che tu stia bene ha sottolineato toffanina altra battuta di paolo ma io sto bene e che sei un medico di famiglia sto bene preferivi che accusarsi il colpo preferivo che fosse tutto come prima altra replica di bonolis che ha provocato imbarazzo ma guarda che è meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene ok basta mi faccio gli affari miei la chiusura della toffanina giù il sipario diletta leotta verissimo i primi giorni con mia figlia uno shock a verissimo diletta leotta ha raccontato la sua vita da mamma la conduttrice ha spiegato come sta vivendo questa nuova fase punto diletta leotta è stata ospite a verissimo e ha parlato della sua esperienza da neomamma da quando è nata aria la sua vita e quella del suo compagno loris carius sono cambiate sono super felice è un momento incredibile a volte è difficile trovare le parole per descrivere questi attimi io sto molto bene sto vivendo uno dei momenti più incredibili della mia vita non so quando realizzi di essere mamma la leotta ha raccontato i primi giorni con la piccola tornare a casa con lei è stato molto bello perché in ospedale non ho capito niente i primi giorni non dormiva dovevo imparare a fare la mamma ma nessuno te lo insegna i primi quattro sono stati uno shock poi a casa sono scoppiata a piangere ed ho realizzato che siamo in tre è un momento stupendo questo sto diventando donna e mi rendo conto di cosa significa sto sperimentando tutte le emozioni pensavo che era un momento sereno per diventare mamma non pronta perché non lo sei mai però con loris è diverso mi ha dato la possibilità di realizzare questo sogno mi ha cambiato la vita il suo amore è l'ultimo è quello giusto che non ti dà la possibilità di pensare troppo un istinto a proposito del suo compagno in veste di papà ha detto lui è un papà stupendo hanno già un legame incredibile poi lei è uguale a loris si somigliano molto e sono super legati si divertiranno tanto diletta ha spiegato di essere tornata quasi subito a lavorare io sono tornata a lavorare dopo un mese è stato bellissimo ed è stato importante per me la mia vita è quella è giusto avere i miei spazi silvia toffanina ha chiesto alla conduttrice radiofonica se ha intenzione di allargare la famiglia in un futuro dopo aver avuto aria adesso ho voglia di avere altri figli una gioia talmente forte che un giorno aria avrà un fratellino o una sorellina e sulle nozze il matrimonio è nei miei sogni ma per ora aria ha riempito tutto di una luce nuova e siamo focalizzati su di lei poi ci sarà tempo per pensare a quest'altro step il rapporto con la mamma diletta ha raccontato che sua madre per lei è stata una figura fondamentale e che la sta aiutando molto in questo momento della sua vita mia mamma è stupenda spero di essere come lei un giorno adesso mi rendo conto di tante cose prima non la capivo il bello di una mamma è non essere egoista e lasciare andare un figlio anche se vedere la cameretta vuota ti toglie il fiato è giusto lasciare liberi i figli di inseguire i loro sogni lei mi aiuta tanto con aria mi insegna le ninne nanna è bellissimo averla insieme a me l'amicizia con elodie a sorpresa elodie ha mandato all'amica un videomessaggio speciale così la leotta ha parlato del loro rapporto vivendo lontana dalla mia famiglia e a milano le tue amiche diventano le sorelle che ti scegli e lo è una di quelle che mi è stata vicina durante la gravidanza e adesso è una zia meravigliosa lei c'è sempre e sono contenta che è con me non c'è cosa più bella della solidarietà tra donne il caso del calcio scommesse silvia tofanina ha chiesto poi un commento sulla situazione del calcio scommesse emersa nell'ultimo periodo purtroppo è stato un tema che ha sconvolto tutto il mondo del calcio a volte è facile puntare il dito tonali fagioli sono stati puniti ma esiste anche un problema quello della ludopatia bisogna anche aiutarli con un percorso cosa che entrambi stanno facendo spero che sia di insegnamento per i più giovani e che tornino in campo e siano in grado di riprendersi al 100 per cento con una consapevolezza diversa graver guardato l'intero video per favore iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e produrre video migliori grazie e ci vediamo di nuovo